grazie ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ok andiamo a provare questo bellissimo gioco ok questo gioco è una storia avvincente davvero bella e già si può vedere da queste fiamme che salgono ecco qua new games e andiamo loading non è in italiano però siamo proprio in prima persona vedete tipo il vr quasi uguale adesso guardate mi sposto davvero bello anche è tipo una passeggiata è un'altra cosa un'altra cosa E' una passeggiata normalissima Davvero bella la grafica Anche questo c'è una bella grafica Però andiamo avanti Guardate come sono fatti gli alberi Sembrano fatti con la stampante 3D Sì però vedo che sotto Guardate nel pavimento c'è questa riga che va avanti E non so se è normale Adesso è sparita quella riga che c'era Peccato che non sia in italiano Perché se era in italiano Era qualcosa di Davvero straordinario E' solo una camminata tra questa foresta qua Con questi suono Questa canzoncina col piano Andiamo a fare una con tagliamo Ma non ti fa neanche tagliare? Eh no dai Ci dobbiamo per forza subire tutto No vedete io cerco di andare di qua Lui va sempre per la strada Però se va lento così Bene ragazzi allora avete visto questo gioco qua Spero che vi piaccia E per questo è tutto Ci vediamo alla prossima Sempre e soltanto Nintendo Ciao ciao Spero che ci vediamo alla prossima Spero che ci vediamo alla prossima Spero che ci vediamo alla prossima Spero che ci vediamo alla prossima